La mia parola chiave per questa pandemia è la scrittura. Infatti nei mesi di marzo, aprile e maggio ho cominciato a scrivere dei sonetti sulla pandemia, proprio su questo isolamento che ognuno di noi era costretto a vivere, e l'ho scelto il vernacolo pisano perché ho pensato che è uno stile di scrittura semplice, però non è banale, efficace, ironico, arguto, insomma che riesce a parlare a tutti. Ho cercato di evidenziare in questi sonetti, che poi sono diventati un libro che si chiama Ai tempi del corona, i momenti che un po' tutti noi abbiamo vissuto, non so, dalla fila al supermercato dove magari abbiamo comprato cose che non ci servivano, ha questa sensazione dei giorni sempre uguali, non si distingueva la domenica dal lunedì, la solitudine, il pensionato da solo, e poi soprattutto questa vita a distanza, questa vita artificiale che abbiamo vissuto attraverso le piattaforme. C'è un sonetto che vi sintetizzo, proprio su questo tema, che si chiama il matrimonio e lei sta a Milano, lui sta a Vicenza, il suocero a Torino, il prete da un'altra parte, tutti i parenti sono intorno allo schermo del pc e durante la cerimonia gettano il riso sullo schermo, sul televisore. E poi dopo nove mesi, non si sa come, nasce un bel bambino di tre chili, evidentemente è un altro miracolo di Dio.